Ragazzi, benvenuti in quella che è la seconda news di questa botta di fortuna di news E sinceramente come potete vedere, come avete visto anche dall'anteprima del video Ragazzi, questa è una signora news Finalmente, non solo abbiamo già saputo come si chiama la seconda espansione di Pokémon XY Che si chiamerà Flashfire, eccola qua Comunque se non avete letto la news la trovate tranquillamente sul mio canale E ragazzi, abbiamo già a disposizione le prime immagini delle bustine, signore e signori Non è niente male, guardate qui, sicuramente qui se la ingrandisco, si vedete decisamente meglio Un po' sgranato, ma va bene Abbiamo niente po' di meno che, chissà se il video mi rallenterà questo Vabbè, vedrete prima e poi sentirete, vabbè, è una cosa molto particolare Vedete Kangaskhan, che ci sarà anche nella versione Kangaskhan X Mega Charizard, Mega Charizard e Piroar in versione maschile Vabbè, non mi è mai piaciuto tanto Piroar, se devo essere sincero mi piace più la femmina È un po' più elegante Ma ragazzi, guardate quanto sono fighi i due Charizard Io non vedo l'ora di mettere mani su questi tannati pacchetti, parca miseria Guardate quanto sono fighi E usciranno niente, proprio dicendo che il 7 maggio di quest'anno Purtroppo fa più di tre mesi Anzi, tre mesi, scarsi tre mesi, ma tre mesi sono tanti, dannazione Le bustine le hanno, vabbè, come illustrazione Quindi, questo è Mega Kangaskhan Strano Cioè, pensavo fosse Kangaskhan normale Non ho mai visto Mega Kangaskhan, se devo essere sincero Lo cercherò Conterrà oltre 109 carte, ragazzi 5 nuovi Pokémon X E 3 Mega Evoluzioni, probabilmente Vabbè, è molto sicuro Mega Kangaskhan, Mega Charizard X e Mega Charizard X Ipsilon, 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 ovviamente I 5 nuovi Pokémon X molto probabilmente saranno Oltre, vabbè, queste 3 Mega Evoluzioni O, intende già come X queste Mega Evoluzioni Sicuramente un Kangaskhan e i due Charizard, ovviamente E Piroar, no, E Piroar, è chiaro Tocca vedere quale sarà l'ultima Speriamo che ci sarà un colpo di scena Ragazzi, io non vedo l'ora di mettere mani su questi bellissimi A chi guardate Io vi invito di nuovo a guardare Sono veramente eccezionali Vediamo se me lo fa cliccare Veramente stupefacenti Guardate che figata Allora, questa era la news Io sono decisamente eccitato di questo Spero che siate eccitati anche voi E quindi mettete un bel mi piace E vi saluto per il nuovo prossimo video Ciao a tutti ragazzi